Il tagliamento tra le Dolomiti e l'Adriatico sarà una grande giornata alla sua gente, dalla sua parte, ha il suo Veneto nel cuore e lui è nel cuore dei Veneti, popolo di Pontina. Salutiamo tutti insieme il doce della Serenissima, Luca! Più forte, Luca! 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 Ancora tocca a voi, eh? Ha forzamente voluto il referendum per l'autonomia! Vuole liberare la sua gente, la sua regione, dal centralismo romano che da decenni ci opprime. Dopo otto secoli i Lombardi hanno la possibilità di giurare nuovamente per la libertà e l'autonomia. Ecco a Pontina e accogliamo con tutto il nostro colore il governatore della Lombardia, Roberto! Più forte! Roberto! 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 Grazie! 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 Grazie!